Salve a tutti! In questa lezione parleremo di un concetto particolarmente importante che è, insieme con quello di ruolo, forse quello che più di ogni altro collega tra di loro tutti i concetti sociologici di base di questa prima parte del corso. Parliamo cioè di cultura. Partiamo come sempre dalla definizione e poi l'analizziamo insieme. Per cultura intendiamo l'insieme delle informazioni in senso lato, cioè norme, valori, linguaggio, simboli, eccetera, che vengono trasmesse socialmente attraverso dei processi di apprendimento. Quindi un insieme di informazioni in senso lato significa tutte quelle regole, quei valori di riferimento. Ancora noi non abbiamo dato una definizione precisa sociologica di valori e di regole sociali, però abbiamo già incontrato più volte questi termini. Quindi però li utilizziamo nell'accezione comune, che comunque è molto vicina a quella poi, al significato che poi avrà quando li definiremo in modo più preciso con i termini sociologici. Quindi, andiamo avanti, due aspetti fondamentali di cui parlare immediatamente quando si parla di cultura, sono gli aspetti legati al relativismo culturale e ai cosiddetti universali culturali. Ovviamente sono due concetti legati tra di loro. Partiamo dal relativismo culturale. Il relativismo culturale è quello secondo il quale, a seconda del contesto in cui ci troviamo, avremo delle culture diverse legate proprio a quel contesto sociale-ambientale o al contesto temporale. Infatti parliamo di relativismo nel tempo o nello spazio. All'interno di luoghi diversi nello stesso tempo possiamo avere culture molto diverse tra di loro. Le culture che definiscono ciò che significa, per esempio, le regole da rispettare per ciò che definiscono il ruolo di padre, le culture possono essere molto diverse, le regole possono essere molto diverse all'interno di un contesto culturale piuttosto che un altro. Essere padre in Sicilia comporta, implica delle aspettative sociali, spesso diverse, da quelle che riguardano la definizione del ruolo di padre all'interno di un contesto culturale molto lontano come, non lo so, in Cina. L'essere donna nel sud Italia fa riferimento a tutta una definizione di regole che ne definiscono il ruolo e di aspettative sociali che sono diverse, qui non stiamo dando un giudizio di merito, sono regole diverse rispetto all'essere donna in Svezia. Questo significa che il concetto di cultura è relativo nello spazio, perché un elemento che costituisce la cultura, abbiamo detto che è costituita da informazioni in senso lato tra cui delle regole, possiamo già anticipare che tra queste regole ci sono delle aspettative sociali che definiscono i ruoli, quindi i ruoli sono anch'essi elementi culturali, questi elementi culturali sono relativi nello spazio, ma possono essere relativi anche nel tempo, quindi il relativismo della cultura, cioè una cultura viene definita anche in base al tempo in cui si manifesta, al tempo proprio storico in cui si manifesta. Restando sull'esempio che vi ho fatto, quello del ruolo della donna, quindi delle aspettative sociali nei confronti di chi occupa una particolare posizione sociale, in questo caso la donna, sono diverse nel tempo. La donna in Italia, nell'Ottocento, era caratterizzata, quindi il ruolo di donna in Italia, era caratterizzato da aspettative sociali diverse da quelle che caratterizzano il ruolo di donna, e le aspettative sociali quindi adesso connesse, nel 2000. Fino a una settantina di anni fa le donne non potevano votare. Oggi per fortuna si sono emancipate, ma è abbastanza. Ovviamente il ruolo della donna è cambiato, ma non ancora abbastanza, in ogni caso possiamo parlare, e questo è l'esempio, questo è il motivo per cui ho fatto questo esempio, perché è un esempio abbastanza chiaro per capire come il relativismo culturale, quindi le culture sono differenti nel tempo, oltre che nello spazio. Diversi sociologi si sono chiesti se al netto di questa distinzione delle culture nel tempo e nello spazio che fa capo al concetto di relativismo culturale, non esistano comunque delle caratteristiche comuni a tutte le culture, in qualunque tempo, in qualunque spazio. Ci si chiede, cioè, se esistono degli universali culturali. Parlando di universali culturali, Clifford, Cohen, Cusson, insomma alcuni autori, si sono chiesti se non esistono delle condotte che possono essere, diciamo così, considerate appartenenti a un'unica categoria di condotte universalmente represse. Quindi delle condotte che sono considerate particolarmente sbagliate in qualunque contesto. E sono, secondo questi autori, l'incesto tra madre e figlio, e tra padre e figlio, e tra fratello e sorella, il rapimento e lo stupro di una donna sposata, l'assassinio, più precisamente l'atto di uccidere volontariamente un membro del proprio gruppo, il furto. Ho scelto di fare questo esempio di tentativo di individuazione di universali culturali per mettere in evidenza la problematicità della materia, perché perfino in questo esempio di comportamenti che effettivamente in alcuni casi sono considerati come estremi, estremamente devianti in alcune culture, perfino questi comportamenti è difficile attribuirli a dei comportamenti che davvero sono degli universali culturali, cioè sono universalmente repressi, perché esistono delle culture in cui il furto non è considerato estremamente deviante, lo stupro, l'incesto, eccetera, eccetera, questo ce lo insegnano gli antropologi. Quindi ricordiamoci sempre, quando parliamo di cultura, quando parliamo di regole, le regole fanno parte della cultura, di associare, ma su questo torneremo in modo più ampio, quando parleremo di devianza, quando parliamo di regole, di associare sempre il termine relativo. Quindi una regola, un pezzo di cultura, è relativo a quella determinata cultura. Lo stesso comportamento può essere considerato assolutamente normale in una cultura, quello stesso comportamento invece può essere considerato deviante o estremamente deviante in un'altra cultura. Chiunque ha mai viaggiato o ha mai letto un libro, o ha visto un film con un occhio, diciamo così, un po' più critico della normalità, si è reso conto come questo, si renderà conto come ci sono tantissimi esempi in questo senso. Torniamo a noi. Esistono tutta una serie di proprietà della cultura, questa è una parte che ho preso dal Luciano Gallino, vi rimando, chi volesse approfondirla, vi rimando direttamente al dizionario di sociologia Luciano Gallino. Invece ci tengo a passare a una definizione ulteriore legata a quella di cultura, anche per sapere di che cosa si tratta quando sentiamo parlare, quando sentiamo citare questo termine, quando sentiamo dire subcultura. Che cos'è una subcultura? È un sottoinsieme di elementi culturali, sia materiali che immateriali, elaborato o utilizzato tipicamente da un dato settore o segmento o strato di una società. Questo determinato settore o segmento o strato di una società può essere una classe, una comunità regionale, una minoranza etnica, una comunità deviante, eccetera, eccetera, eccetera. Possiamo fare tantissimi esempi. Se prendiamo la cultura italiana, delle subculture su base regionale sono le subculture delle varie regioni. Addirittura noi sappiamo che esistono poi delle ulteriori subculture, se volessimo continuare con questo tipo di classificazione, che sono su base anche provinciale, certe volte. C'è dibattito su questo in letteratura, molti si chiedono se abbia realmente senso di parlare di cultura e subcultura quando questo termine a volte appunto sembra essere utilizzato in un'accezione quasi dispregiativa rispetto a dei sotto-elementi, delle sotto-categorie. Quindi se non sarebbe più il caso, se non sarebbe il caso piuttosto di parlare di culture in genere. Ad ogni modo, ho voluto comunque dare questa definizione di subcultura perché noi sappiamo, quando sentiamo questo termine, a cosa normalmente ci si riferisce. Facciamo degli esempi. Il nostro corso di sociologia è all'interno di un corso di laurea dell'Università di Catanzaro e in questo contesto, è un contesto culturale ben preciso. Prendiamo la cultura o subcultura che dir si voglia catanzarese con i suoi detti, quindi un detto, un proverbio è anch'esso un elemento culturale, con du diavolo, utaccarizza, voli l'anima. Questo è il detto, con dei piatti, anche questi fanno parte di culture o di sottoculture nel caso specifico, il morsello è un piatto tipico catanzarese o di bevande, addirittura la brasilena è una bevanda tipica catanzarese. Addirittura di tifoserie, presenti con dei canti specifici, dei modi di dire specifici, delle modalità di tifo a volte specifiche, nel caso specifico, restando sempre a Catanzaro, la tifoseria del Catanzaro. Quando una subcultura incorpora, quindi stiamo parlando di un caso particolare, quando una subcultura incorpora nella quasi totalità elementi che si presentano sono percepiti come radicalmente opposti alla cultura dominante, si tende a chiamarla piuttosto controcultura. Quindi quando all'interno della subcultura vengono inseriti tutta una serie di elementi che si presentano come radicalmente opposti alla cultura dominante, quella subcultura non la chiameremo più subcultura, ma la chiameremo piuttosto controcultura. Anche in questo caso possiamo fare tantissimi esempi di vario genere, anche una volta non c'è un criterio di giudizio sulle controculture, può essere considerata una controcultura la cultura degli uomini bomba, può essere considerata una controcultura quella dei pancabestia, può essere considerata una controcultura quella mafiosa. L'importante è che nel momento in cui definiamo una controcultura dobbiamo avere due elementi. Quello intanto è un sottoinsieme di elementi culturali che però al loro interno presentano in molti casi delle regole, dei valori di riferimento che sono contrari, quindi è sempre in relazione a una cultura dominante. Quando abbiamo una controcultura dobbiamo sempre trovare la relazione con la cultura dominante, quindi la presenza di elementi che sono contrari alla cultura dominante. Quando si parla di cultura non si può fare a meno di citare lo straordinario lavoro di Antonio Gramsci, Antonio Gramsci che ahimè lo posso dire per esperienza diretta non è molto citato nei nostri atenei, almeno quelli legati, non è citato abbastanza, mettiamola così, per quanto meriterebbe nei nostri atenei, almeno per quanto riguarda i corsi di laurea in sociologia. Ci sono delle eccezioni, ovviamente, mentre posso garantire che ogni volta che si va all'estero, soprattutto quando si hanno rapporti con sociologi, scienziati sociali di ambito anglosassone, Gramsci è un riferimento fondamentale. Appena sanno che sei italiano, Gramsci. Gramsci, tutto il suo lavoro sul potere culturale, sull'egemonia, sono aspetti che sono sicuro, spero fortemente, che approfondirete in corsi specifici più avanti, se non lo faceste all'interno dei corsi, vi consiglio vivamente comunque di approfondirli anche autonomamente. Quindi parlando di culture, prima di chiudere questa lezione, voglio ricordarvi che nella settimana prossima presenterò alcune lezioni che saranno degli esempi di studi su culture. Sono degli esempi legati a delle ricerche che ho condotto sul campo, alcune ancora in corso. Serviranno un po' per dare vita a questi concetti che altrimenti rischiano di rimanere un po' aridi, un po' troppo sulla carta, dare vita a questi concetti che abbiamo visto fino adesso, tutti i concetti, da quello di azione sociale fino all'ultimo, quello di cultura, compresi anche i prossimi, che vedremo nelle prossime lezioni, che saranno quelli che fanno riferimento un po' agli elementi che costituiscono la cultura. Quindi andremo a definire che cosa sono i valori sociali, le norme sociali e andremo a vedere anche quali sono i principali processi attraverso i quali la cultura viene trasmessa. Quindi parleremo di socializzazione fino alla formazione, quindi al concetto finale di questo primo corso sui concetti sociologici di base, fino alla formazione dell'identità. Ma tutto questo lo vedremo nelle prossime lezioni. Vi ringrazio per l'attenzione e buono studio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.